Il Centro per l'impiego di Albenga cerca un webmaster per azienda di Loano, requisiti richiesti, titolo di studio, diploma di maturità, ottime conoscenze informatiche, età minima 25 e massima 45 anni, esperienza richiesta tra i 2-5 anni, contratto proposto, tempo determinato, part-time. Il Centro per l'impiego di Carca ricerca un capocantiere del settore termoidraulico per azienda della Val Bormida, requisiti richiesti, titolo di studio, assolvimento obbligo scolastico, patente tipo B, età minima 25 e massima 55 anni, esperienza richiesta sotto i 2 anni, contratto proposto, tempo indeterminato, full-time. Il Centro per l'impiego di Savona cerca un impiegato addetto alle paghe per studio associato di commercialisti, requisiti richiesti, titolo di studio, diploma di ragioneria, buone conoscenze informatiche, esperienza richiesta tra i 2-5 anni, età minima 25 anni, contratto proposto, tempo determinato, full-time. Le persone interessate alle posizioni lavorative offerte potranno dare la propria adesione alle richieste di lavoro recandosi presso il Centro per l'impiego di appartenenza, munite di curriculum, da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, al martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00, oppure aderire alle offerte di lavoro facendo pervenire curriculum tramite fax o email con i codici di riferimento corrispondenti all'offerta. Sul sito Formolavoro nella sezione Cerco un Corso sono disponibili diversi corsi di formazione, dal corso per cucina per celiaci e intolleranze alimentari a quello per panificazione e per ristorazione, o ancora dal corso per pasticceria del territorio o tradizione e innovazione al corso per barman freestyle. Consulta il sito Formolavoro per conoscere tutte le modalità di iscrizione e le scadenze.